Voglio fare un video veloce veloce per prendermi una pausa dal lavoro, sto lavorando tantissimo, mentre ne preparo un altro di video che sarà un po' più lungo, un po' più impegnativo. Perché stavo riflettendo su i concorsi. È appena finito Sanremo. Dio ti ringrazio, è finito Sanremo. Però per gli scrittori Sanremo non finisce mai, almeno per alcune tipologie di scrittori. Ve lo spiego subito dopo la sigla. Per alcuni scrittori è sempre Sanremo. Cosa intendo dire? I concorsi, le competizioni, arrivare primi, secondi, terzi, classificarsi, qualificarsi. I cazzo di concorsi letterari. Che dal più prestigioso al più scalcinato hanno il potere di scatenare in alcune personalità gli istinti più atavici di acquisizione compulsiva, di conquista, di dominio e competizione. E la competizione, il senso dell'agonismo, della competitività è una risorsa nelle persone. Sicuramente. Nel mio lavoro di Ghostwriter mi capita di intervistare insomma alcuni veri numeri uno nel loro campo. E tutti hanno in comune questo. Sono persone competitive. non hanno mai ceduto e hanno sempre puntato verso un obiettivo che poi hanno raggiunto a fronte di uno stuolo di altri individui che non ce l'hanno fatta. E chiaramente sono loro che poi vengono intervistati. Ma torniamo un attimo agli artisti. Perché a Sanremo poi chi è che si contende la vittoria? Degli artisti. Io ho sempre fatto fatica però. Devo dirvi la verità. Quando si tratta di creatività, di arte, ecco faccio fatica a scendere a patti col concetto che ci siano i concorsi. Che si combatta per il primo posto. Perché un conto è la competizione sportiva. Ho visto da poco il film il biopic su Jesse Owens. Owens o Owen? Owens mi pare. Il velocista che vinse quattro medaglie d'oro davanti a quella faccia di merda di Hitler nelle Olimpiadi di Berlino. Ma lì è ufficiale, è oggettivo. Cioè se tu corri più veloce vinci. Lo vedono tutti. Un'altra cosa è la competizione artistica. Dove ci sono dei giurati che hanno il loro gusto, che hanno il loro pensiero arbitrario. E sono loro a stabilire che tu sei il primo oppure sei l'ultimo. Certo, alcuni criteri oggettivi non mancano. Cioè se scrivi da cani sarai l'ultimo. È evidente. Però quando poi c'è la professionalità, c'è la qualità della scrittura, poi quello che conta è se tu entri in sintonia con la sensibilità dei giurati, no? E questo è totalmente aleatorio. Ma, ma... Chi ha una certa personalità è patisce, patisce. Cioè io veramente leggo sui social a volte dei piagnistei, dei piagnistei, oppure dei peana, degli attacchi contro questo o l'altro concorso. Veramente dei flame, no? I classici flame di chi non è d'accordo. Non ho vinto io. Evidentemente c'è un problema. Non è... Non sono io il problema. Il problema è nel concorso. E stavo pensando anche al fatto che, come forse sapete, Hypnos Edizioni ha deciso di chiudere il decennale concorso per i racconti weird, no? Questo chiude una finestra per tanti che, insomma, avevano lì un modo di farsi notare. E da questo concorso sono nate anche delle firme. Perché il bello di questi concorsi in realtà qual è? Che gli autori aspiranti si possono misurare diciamo in un contesto studiato appositamente per forse far emergere le loro qualità. Però non è detto. Non è detto. Può anche darsi che le qualità non ci siano. O che quello non sia il posto giusto dove farle notare. Quello che a me è veramente sconcerto è che sempre o quasi ci siano strascichi di polemiche di... 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 di piagnistei, l'ho detto. Si frigna troppo, ragazzi. Si frigna troppo. Però forse è un problema mio. Perché vi posso raccontare intanto siamo amici qui, no? Che io ho sempre avuto un problema con le gare, le competizioni. Ricordo che da bambino a me il calcio non è mai piaciuto. Però all'elementare mi capito di giocare a palla canestra e i miei mi iscrissero alla squadretta della scuola. C'era il coach, c'era tutta la struttura che insomma è anche molto sana perché insegna ai bambini la tenacia, la determinazione, lo spirito agonistico, lo spirito sportivo che è una bellissima cosa. Ma mi capitò di rendermi conto dopo il primo diciamo vago entusiasmo o comunque curiosità per questo sport mi resi conto che c'erano altri molto più bravi di me che facevano un sacco di canestri più di me. E quindi ecco forse la mia personalità era un po' debole in questo senso. Io mi avvilì. Fu veramente insomma iniziai a frignare esattamente come gli autori che non accettano di non vincere di non essere i migliori. Iniziai a frignare e decisi che non volevo più giocare a pallacanestro e ricordo vividamente un incontro con l'allenatore e i miei genitori sulla scala che conduceva alla palestra nel seminterrato della scuola elementare Aldomoro di Torino dove insomma i miei genitori cercavano di convincermi con l'aiuto dell'allenatore che è molto importante essere anche uno bravo a fare i passaggi perché poi qualcun altro finalizzi il punto il canestro e mi dicevano tu sei bravo a fare i passaggi e non dovresti per questo avvilirti ma niente non mi convinsero io volevo lasciare la pallacanestro mi sentivo una merdina non ero affatto contento di me ero umiliato non volevo giocare non volevo provare quella sensazione di vedere che qualcun altro faceva canestro al posto mio però ero un bambino e forse anche per questo che poi non capisco questa persistenza di una puerilità nel voler vincere a tutti i costi il concorso letterario ragazzi insomma un conto è se lo strega ma se perdete il concorso letterario della proloco di una zona remota dell'Italia di un paesino o comunque insomma se non state perdendo non state perdendo niente ecco il discorso è questo non state perdendo niente se non quando iniziate a piagnucolare sui social e a cercare di minare la credibilità di un concorso di un giurato di chi vi ha giudicati ecco state semplicemente perdendo il vostro status di adulti perché noi che vi leggiamo sui social noi che vediamo che siete sempre lì a rampognare a bofonchiare come delle caffettiere guardate guardate che non si fa una bella figura allora vincere è bellissimo lo sappiamo tutti però perdere con dignità la schiena dritta anche questo è molto importante tanto più in un ambito come quello dei concorsi letterari in cui ragazzi è molto aleatorio alcuni talenti emergono perché sono palesi però poi ci sono in mezzo quelli che sono magari bravi ma a modo loro e quel a modo loro è abbastanza indecifrabile per alcuni giurati magari non è il momento giusto in cui leggere quel racconto in cui giudicare la vostra opera forse non è il vostro quel giurato non è il lettore adatto alle vostre opere forse la vostra opera fa cagare perché una cosa che non si sembra mai non sembra mai emergere è che è ufficiale che alcuni scritti non siano all'altezza ora il problema dei concorsi letterari è che fanno emergere diciamo le debolezze le fragilità di chi possiede una personalità che come dire vira trascolora nella direzione del 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 narcisismo perché gli scrittori ragazzi spesso sono narcisisti di brutto narcisisti di brutto così come gli artisti che vanno su un palcoscenico e vi propinano la loro canzoncina vestiti di tutto punto è un po' la stessa cosa per alcuni scrittori è un po' un festival di Sanremo in cui bisogna emergere in cui il desiderio è quello di avere tutti i riflettori su di sé tant'è vero che io penso che questo problema di avere un assembramento di pseudoscrittori che non meritano neanche alla fine di essere letti e questo succede in tanti concorsi si leggono delle cioffeche pazzesche ecco il problema di questo affollamento di pseudoscrittori si risolverebbe secondo me con una proposta provocatoria che vi faccio ammettiamo che ci sia questo concorso in cui chi vince vince e poi magari c'è anche la pubblicazione della sua opera magari in un'antologia o comunque la sua opera viene portata alla ribalta bene pensate quanti narcisi rompiscatole ci eviteremmo se se e dico se vincesse sì l'opera ma non dicesse mai nessuno chi l'ha scritta cioè immaginate dei libri senza il nome dell'autore sopra io penso che tantissimi narcisi rompiscatole quali se ne vedono tanti nei concorsi a quel punto cercherebbero un'altra sponda in cui mettersi salire sul palcoscenico e dire guardatemi sono io sono magnifico sono magnifica mamma guardami ecco questo tipo di reazione probabilmente verrebbe meno non sto dicendo che l'autore non debba essere riconosciuto in generale sto dicendo che l'autore è veramente autore quando dà la precedenza al lettore al lettore non al proprio nome capite? e dovrebbe essere questo secondo me lo spirito di chi partecipa ai concorsi voglio avere un giudizio sulla mia opera non importa se non sarà quello che mi aspetto ma soprattutto se dovesse vincere vorrei che la mia opera arrivasse a tanti lettori e donasse a loro quella pagamento quella soddisfazione che invece cercano i bambini quale ero io quando giocavo a palla canestro e non mi rendevo conto che effettivamente saper fare un buon passaggio a chi poi va a canestro è importantissimo e tutto sommato broken stories questa è un po' questa cosa qui io faccio dei passaggi parlandovi di opere che spero vendano di più perché se lo meritano quindi in un certo senso sto passando il pallone agli scrittori che reputo bravi sperando che loro poi ottengano la gloria che francamente ora che sono un po' più cresciuto mi tange assai poco mi tange assai poco che ne pensate fatemi sapere ve lo immaginate un concorso in cui si vince ma non si vince la gloria si vince il la possibilità di dare qualcosa in più ai lettori ma sono un idealista è evidente ciao a tutti da Flavio Torisi di Broken Stories torno al lavoro grazie a tutti